Buongiorno ragazzi, ho il fiatone perché ho corso, ho tirato sul tendone in due secondi e mezzo Allora, dicevo oggi noi siamo qui per leggere finalmente uno dei racconti di Stephen King Ho aspettato un po' di tempo per non essere scontato, è arrivato anche questo momento Al momento a casa qua ho solo due raccolte di Stephen King, ho scelto di leggere un racconto da tutto è fatidico Da questa raccolta di Stephen King che contiene all'interno alcuni racconti molto interessanti, altri meno Stephen King è uno veramente prolifico e quindi con grande oltretutto onestà intellettuale Anche da parte sua è uno che ha messo un sacco di racconti all'interno di questo libro essere dei filler per riempire Probabilmente l'hanno spinto la casa editrice a pubblicare Ovviamente King regala sempre però delle perle E quando King regala delle perle, le perle si trasformano in film, è una cosa incredibile E' anche una sicurezza di guadagno Ciao D.B. Il racconto che leggiamo oggi è 1408 Che è un racconto molto famoso per il semplice fatto che hanno fatto il film E il film è uno dei pochi film tratti dai libri di Stephen King veramente riuscito Molto molto carino, divertente, entusiasmante e originale la storia Quindi con John Cusack, mitico, mitico John Cusack che io amo alla follia Secondo me è un attore incredibile che può fare sia il miglior amico come il miglior nemico E il mitico Samuel Jackson che tutti conosciamo bene Assolutamente Film da vedere Allora King, intanto vi saluto di nuovo a tutti Allora, bonjour tutti, vado su YouTube, fantastica Poi ci fai sapere se si vede a posto lì E ciao alla D.B. Quindi oggi leggiamo Stephen King Il maestro del terrore Il re dell'orrore Qualsiasi voglia che si voglia chiamare Immagino che almeno un po' di voi di sicuro avranno letto qualcosa di King Anche Irene adora Cusack Lo so, ne abbiamo parlato Cusack è meraviglioso Trovo fosse interessante leggere il racconto insieme Per scoprire il racconto Da cui è stato tratto appunto un film che ci è piaciuto un po' a tutti Chi non ha mai letto King Si faccia un favore E legga almeno un romanzo Per il semplice fatto che È brutto lasciare questo mondo Senza aver mai letto un romanzo di Stephen King Fa parte della cultura Ciao Maurizio, fantastico King ha scritto grandi, grandi classici Ha scritto veramente, veramente centinaia Centinaia di libri Ha scritto grandi classici Tra cui per esempio Pets Matari Di cui abbiamo parlato l'altro giorno L'abbiamo nominato Come paragone al racconto Che abbiamo letto di Non mi ricordo il nome William Weimark Insomma quel racconto Sulla zampa di scimmia La zampa di scimmia Fantastico King ha scritto un altro libro Che si chiama Christine La macchina infernale Che è un libro che da piccolo Ha aperto un po' Tutta la mia passione Per il mondo dell'horror E della letteratura È un libro che Non è uno dei più famosi di King Anche se è uno dei più Antichi, originali È un classicone È un libro che Che mi aveva appassionato Così tanto da piccolo Avevo cominciato a fare la collezione In ogni stato in cui andavo Viaggiando con la famiglia Con la scuola Compravo nell'edizione Di quel libro In lingua straniera Poi vabbè King ha scritto It Il colossal Di 1200 1300 pagine È uno dei Delle pietre miliari Della letteratura horror Da cui è strato tratto Un paio di film di recente Di cui non voglio nominare nulla Perché li trovo assolutamente scadenti E Per nulla riusciti Hanno fatto anche un grande film Negli anni 90 Che anche quello in realtà Poi non è per nulla riuscito Però Ha una sorta di atmosfera Che ci ha un po' Spaventati a tutti Della nostra generazione Con un mitico Tim Curry Tim Curry Non Curry Tim Curry Che Ha segnato Diciamo Il nostro immaginario Con il Con l'It Il pagliaccio più spaventoso Della nostra generazione King ha scritto Cujo Il cane Il cane San Bernardo Che diventa Una follia omicidia Un libro fantastico Su una madre e un figlio Che si ritrovano bloccati Dentro alla loro automobile Ferma Senza Che non riparte In mezzo a A questa Nel Nel mezzo della campagna Davanti a una fattoria Il cui proprietario È stato sbranato Dal proprio cane Che non si sa Quale sia il problema Meraviglioso Cujo King ha scritto Ha scritto Misery Che in italiano Si è stato tradotto Misery Non deve morire Un libro fenomenale Uno dei grandi classici Di King Assolutamente da leggere Da cui hanno tratto Uno degli altri Pochi film Meravigliosi Veramente meravigliosi Tratti dai libri di King Misery Con Katie Bates Una delle Personaggi femminili Malefici Più spaventosi Della storia del cinema E un mitico James Caan Grandissimo attore Grandissimo attore Grandissimo attore King ha scritto Ha scritto The Shining Conosciamo tutti Di cui è stato tratto Ovviamente poi Il film capolavoro Pietra miliare Della cinematografia Di Stanley Kubrick Genio del cinema Recitato Con Recitato Da Jack Nicholson Che è diventato Iconico È interessante scoprire Se non lo sapete Che King Ha assolutamente Odiato Il film di Kubrick Nonostante Riconosca Abbia un grande talento E sia Bellissimo da vedere Ma Ha stravolto Completamente Il suo libro E per un artista Come King È stato Un colpo Troppo basso King ha scritto Carrie Ecco Carrie Secondo me È uno dei libri Forse il libro Più bello di King Ed è il primo libro Che ha scritto King Che è stato pubblicato Nella sua vita Libricino Piccolino Stupendo Da qui hanno tratto Un meraviglioso film Degli anni 70 Stupendo Un film veramente Molto molto suggestivo E spaventoso E assolutamente Che segue Lo stile E i concetti Di Carrie Hanno fatto Con C.C. Spasic Bravissima Veramente meravigliosa In quel film Nonostante sia Spaventosa E Hanno fatto anche Un film di recente Però non vale la pena vedere King ha scritto King ha scritto Il gioco di Gerald È un altro libro Molto interessante Di King Molto molto interessante Thriller Parla di una coppia Che si ritira Per una vacanza Un weekend Nella loro casa Di villeggiatura In montagna In mezzo a un bosco Lontanissima Dalla Dalla vita E la coppia È da anni Che comincia A vivere un po' L'abitudine A non essere troppo affiatata E decidono di fare Un gioco sessuale All'inizio E la moglie viene legata Al letto Solo che durante L'inizio di questo gioco La moglie ha un ripensamento Non si sente a posto Non gli piace Il gioco Che sta venendo fatto E in un attimo Di incomprensione Col marito Colpisce Con i piedi Il marito Sullo sterno Che crolla Morto Di fianco al letto Per un infarto E lei si ritrova Tutto il libro Tutta la storia Legata al letto Con la porta aperta D'ingresso E i rumori strani Che comincia a sentire Hanno fatto un film Veramente Secondo me Veramente riuscito Molto bello Del gioco di Gerald Che c'è su Netflix C'è su Netflix Guardatevelo Se non l'avete visto Molto molto bello E intanto leggo un attimo Maurizio Onestamente Se mi trovo un pagliaccio davanti Prima gli è meno Poi parliamo Grazie a It Lo so La nostra generazione Segnata da It Il pagliaccio E lo squalo Di Spielberg It No Dicevo King King è uno Che oltretutto Appunto Visto che siamo qua Per questo È molto famoso Anche per le sue raccolte Di racconti Che come dicevo Sono molte 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 Nel corso degli anni Alcune migliori Alcune meno Tutte molto famose Comunque Lui ha scritto Agli inizi Ha scritto Raccolte molto famose Come Scheletri Che pare sia Essere Pare È una delle più belle Raccolte di King Di racconti brevi Ha scritto A volte ritornano Un altro cult Raccolta di racconti Di King Molto bello Ha scritto Incubi e deliri Un altro libro di cui Era molto affezionato Da piccolo Per l'edizione Grossa Con la copertina Spaventapassari Molto suggestiva E ha scritto Per esempio Un altro Appunto Più recentemente Recentemente Per dire Negli ultimi 20 anni Tutto è fatidico La raccolta Da cui prendiamo Il racconto Oggi Appunto Ah poi King Ha scritto La particolarità Di King Che vi volevo dire È che non solo I suoi film Hanno ispirato Numerosissimi Non solo i suoi libri Hanno ispirato Numerosissimi film Lungometraggi Ma ci sono Alcuni Alcuni Adesso mi viene in mente Un altro dei libri Più belli Di Stephen King Secondo me Il Miglio Verde Che pochi sanno Essere stato scritto Da King Il Miglio Verde È un libro stupendo Da cui è stato tratto Un film altrettanto stupendo Se non uno dei film Più commoventi E belli Che abbiamo mai visto In vita mia Il Miglio Verde È assolutamente da leggere E anche il film da vedere E vi dicevo La particolarità di King È anche il fatto Che lui Con alcuni racconti È riuscito Solo con alcuni racconti brevi Con alcune creazioni corte A ispirare Altrettanti film Non solo film Ma film importanti Perché King Pochi lo sanno Almeno per mia esperienza Parlando con la gente Continuo a scoprire Che pochi lo sanno King è colui Che ha scritto Il racconto Da cui è stato tratto Poi Le ali della libertà Il film Vincitore del premio Oscar È una storia Di Stephen King È un film splendido Tratto appunto Da uno dei suoi racconti E nella stessa raccolta Che in Italia Si trova Che si chiama Stagioni diverse Un'altra raccolta Di racconti di King Si trova pubblicata In Italia C'è sia Le ali della libertà Che Stand by me Che è un altro Dei racconti Più famosi Di King Da cui è stato tratto Un film Che di sicuro Conoscete tutti Famosissimo Con ormai Scomparso River Phoenix Mitico River Phoenix Fratello di Jackin E quindi King Ha questa particolarità Di essere riuscito Comunque Nonostante la sua Enorme La sua enorme Bibliografia A continuare Comunque Durante gli anni A creare storie Interessanti Alcune Alcune più valide Alcune meno Ma È riuscito Comunque Nel corso degli anni Ogni tanto Di nuovo A tornare Ad azzeccare In pieno qualcosa Ed è Secondo me Molto significativo Lui è Un appassionato Della letteratura Del suo mondo Lui è uno Compulsivo Nelò scrivere Bisogna leggere La biografia Autobiografia Di Stephen King On Writing Stupenda Uno dei libri Più belli di King A tratti spaventoso Quasi come i suoi romanzi La sua biografia On Writing Veramente meravigliosa Allora Leggiamo un attimo Due commenti Aiss dice C'è questo Questo riassunto Sulle opere di King È una bomba Grazie Potrei andare avanti Ma mi fermo Perché i libri di King Sono troppi Tanto di sicuro Ci sono un sacco Di consigli Per ora E Beh King è importante Anche se non lo sia Ma bisogna conoscerlo Perché Ha comunque Ha contribuito A modellare Una generazione Di scrittori Non c'è nulla E non solo di scrittori Ma di cineasti Ciao Shanti Buongiorno ragazzi Maurizio dice Onestamente Se mi trovo Un pagliaccio L'ho letto Eppure Quando sto in acqua E la profondità È tipo 10 metri Un po' ce penso Beh Tieni conto Che lo squalo È una Delle mie due fobie Principali Ok La Shanti Si è collegata Guarda Giusto in tempo Fantastico Allora ragazzi Io direi Che salutiamo La Shanti Eccola lì Un bacio enorme E Andiamo a leggere Questo racconto Così ci facciamo Un'opinione E poi lo commentiamo Insieme Ci siete? Tutto a posto? Mettetevi comodi Ok Va bene ragazzi Allora Buon ascolto Questo è 1408 Di Stephen King Da tutto è fatidico Buon ascolto Mike Enslin Si trovava ancora Nella porta girevole Quando vide Olin Il direttore Dell'hotel Dolphin Seduto in una delle poltrone Fin troppo imbottite Della hall Sentì un tuffo al cuore Dopotutto Forse era meglio Portare di nuovo L'avvocato Pensò Beh Ormai era troppo tardi E anche se Olin Aveva deciso Di frapporre Qualche altro ostacolo Tra Mike E la camera 1408 Non era poi così grave C'erano anche Delati positivi Mentre Mike Usciva dalla porta girevole Olin gli addò incontro Con la mano grassoccia Tesa verso di lui Il Dolphin Era sulla 61esima All'angolo Con la quinta avenue Piccolo Ma elegante Un uomo e una donna In abito da sera Passarono davanti a Mike Mentre lui tendeva la mano Per stringere quella di Olin Dopo essersi passato La 24 ore Nella sinistra La donna era bionda Vestita di nero Naturalmente E il suo lieve profumo Floreale Sembrava racchiudere in sé L'essenza di New York Al bar del mezzanino Qualcuno suonava Night and day E quasi a sottolineare Quel momento Buonasera Mr. Henslin Mr. Olin Qualche problema? Olin aveva un'aria afflitta Per un attimo Si guardò intorno Nella hall piccola Raffinata Come in cerca di aiuto Al bancone del portiere Che li guardava Con un sorriso paziente Un uomo discuteva Con la moglie Dei biglietti Per il teatro Alla reception Un tale con l'aspetto Sgualcito Che si ha solo Dopo parecchi ore Di viaggio In business class Chiedeva Della propria Prenotazione A una donna Con indosso Un vestito nero Ed elegante Quasi da sera All'hotel Dolphin La giornata procedeva Come al solito Avevano tutti qualcuno A cui rivolgersi Tranne il povero Mr. Olin Che era caduto Nelle grinfie Dello scrittore Mr. Olin Ripete Mike Mr. Henslin Potrei parlare Per un attimo Nel mio ufficio Beh, perché no Quell'incontro Avrebbe arricchito Il capitolo Sulla camera 1408 Accrescendo L'atmosfera sinistra Che i lettori Dei suoi libri Sembravano agognare E non era tutto Fino ad allora Mike Henslin Non era stato certo Nonostante tutti I suoi tentativi Di dissuaderlo Adesso Ne era sicuro Olin aveva davvero Paura della camera 1408 E di quello Che sarebbe potuto Succedere a Mike Quella notte Certo Mr. Olin 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 Ospite perfetto Tese la mano Per prendere la valigetta Di Mike Mi permetta Non si preoccupi Disse Mike Dentro ci sono solo Un cambio d'abito E lo spazzolino È sicuro? Sì Rispose Mike Ho già indosso La mia camicia Hawaiiana porta fortuna Aggiunse sorridendo Tiene lontano I fantasmi Olin non sorrise Anzi Sospirò Un ometto tondo Con una giacca A coda di rondine E una cravatta Ben annodata Molto bene Mr. Enslin Mi segua Nella hall Il direttore dell'hotel Era parso titubante Quasi abbattuto Sembra invece Riacquistare sicurezza Nell'ufficio rivestito Di quercia Con le fotografie Dell'albergo Appese alle pareti Il Dolphin Aveva aperto Nel 1910 Anche se Mike Non vedeva mai Ricensiti i suoi libri Sulle riviste O sui quotidiani Importanti Faceva le sue brave Ricerche Sul pavimento C'era un tappeto persiano Due lampade a stello Diffondevano Una luce dorata Sulla scrivania Accanto al portasigari C'era una lampada Da tavolo Con un paralume verde A forma di rombo E vicino al portasigari C'erano gli ultimi Tre libri di Mike Enslin In brossura ovviamente Non erano uscite Edizioni rilegate Il mio ospite Ha fatto un po' di ricerche Per conto suo Pensò Mike Si accomodò Di fronte alla scrivania Si aspettava Che Olin Si sarebbe seduto Di fronte a lui Ma rimase stupito Olin si sistemò Sulla sedia Accanto a quella di Mike Accavallò le gambe E poi si chinò in avanti Un po' ostacolato Dalla pancetta E toccò il portasigari Un sigaro Mr. Enslin No grazie Non fumo Olin lanciò Un'occhiata Alla sigaretta Posata negligentemente Dietro l'orecchio di Mike Dove l'avrebbe piazzato Uno spiritoso reporter D'altri tempi Con il cartellino stampa Infilato nella fascia Del cappello Ormai la sigaretta Era diventata Una parte di lui Tanto che per un attimo Mike davvero Non capì che cosa Fissasse Olin Poi fece una risata Prese la sigaretta La fissò lui stesso E tornò a guardare Olin Sono nove anni Che non fumo Disse Avevo un fratello Maggiore Che è morto Di cancro ai pulmoni Ho smesso Dopo che se n'è andato La sigaretta Dietro l'orecchio Si strinse nelle spalle Credo sia un po' Per posa E un po' Per superstizione Come la camicia Waiana Oppure come le sigarette Che a volte si vedono Sulle scrivanie O appese alle pareti Incorniciate con una targhetta Che dice Romper il vetro In caso di emergenza La 1408 È una camera Per fumatori Mister Olin Nel caso in cui scoppia Una guarda nucleare Non si sa mai A dire il vero Sì Lo è Bene Disse Mike In tono allegro Una preoccupazione In meno Per stanotte Mister Olin Sospirò di nuovo Ma non con il tono Sconsolato Che aveva nella hall Sì Era l'ufficio Decise Mike L'ufficio di Olin Il suo posto di comando Anche quel pomeriggio Quando Mike era venuto In albergo con Robertson L'avvocato Olin era parso meno agitato Non appena erano entrati Nell'ufficio E perché stupirsi Dove ci si poteva sentire Più sicuri di sé Che non nel proprio Posto di comando L'ufficio di Olin Era una stanza Con belle fotografie Alle pareti Un bel tappeto Sul pavimento E sigari di buona qualità Di sicuro I vari direttori Che si erano avvicendati Lì Sin dal 1910 Vi avevano condotto Molti affari In un certo senso Quel luogo rappresentava New York Almeno quanto la bionda Con il vestito nero Che le lasciava Le spalle coperte Il suo profumo E la promessa Sottintesa Di un raffinato momento Di sesso new yorkese Nelle ore piccole del mattino Crede ancora Che non riuscirò A convincerla Ad abbandonare la sua idea Vero? Chiese Olin So che non ci riuscirà Ribatte Mike Rimettendosi la sigaretta Dietro l'orecchio Non si impomatava I capelli Con la brillantina Vitalis O il Wild Root Cream Oil Come facevano Quegli scribacchini Pittoreschi di una volta Ma cambiava La sigaretta Tutti i giorni Come cambiava La biancheria Dietro l'orecchio Si suda Se alla fine Della giornata Esaminava la sigaretta Prima di gettare Nel water Quei 10 centimetri Di morte Mike vedeva Il residuo giallasto Del sudore Sulla sottile carta bianca Il che non rendeva Certo più forte La tentazione di accendere Come avesse potuto fumare Per quasi 20 anni 30 sigarette al giorno A volte 40 Ora proprio Non riusciva a capirlo Per quale motivo poi Era una domanda ancora migliore Olin prese Olin prese i tre libri Che aveva appoggiato Sulla carta assorbente Della scrivania Sinceramente Spero si sbagli Mike aprì la cerniera Della tasca laterale Della 24 ore Ed estrasse Un registratore Sony Le dispiace se registro La nostra conversazione Mr. Olin Olin fece un gesto di assenso Mike premette record E la lucina rossa Si accese Le bobine cominciarono a girare Nel frattempo Olin esaminava con calma i libri Leggendone i titoli Come sempre Quando vedeva i propri libri Nelle mani di qualcun altro Mike Hensley Provava uno strano Sguazzabuglio di emozioni Guazzabuglio di emozioni Orgoglio Disagio Divertimento Sfida E vergogna Non aveva alcun motivo Di vergognarsene Negli ultimi cinque anni Quei libri Gli avevano dato più Che da vivere E non doveva spartire gli utili Con un editore a pagamento Il suo agente Li chiamava le puttane del libro Forse con una punta di invidia Perché il progetto Era tutto suo Per quanto Dopo le vendite eccezionali Del suo primo libro Solo un idiota Avrebbe potuto Non afferrare il concetto Che cos'altro c'era da fare Dopo Frankenstein Se non la moglie di Frankenstein Eppure aveva frequentato L'università dell'Iowa E aveva studiato Sotto la guida di James Miley Una volta si era trovato A una tavola rotonda Con Stanley Elkin Aveva aspirato E nessuno Nella sua attuale cerchia Di amici e conoscenti Lo sospettava minimamente A vincere il concorso Per giovani poeti E essere pubblicato Dall'università di Yale Quando il direttore dell'hotel Cominciò a leggere A voci alta i titoli Mike si ritrovò A rimpiangere Di aver provocato Olin con il registratore Più tardi Riascoltando Quella voce pacata Avrebbe immaginato Di percepirvi Una nota di spregio Toccò la sigaretta Che teneva dietro l'orecchio Senza nemmeno accorgersene Dieci notti In dieci case infestate Lesse Olin Dieci notti In dieci cimiteri infestati Dieci notti In dieci castelli infestati Alzò lo sguardo Verso Mike Con un sorrisetto È riuscito Ad andare in Scozia Per questo libro Per non parlare Dei boschi di Vienna Ed è tutto detraibile Dalle tasse Giusto? In fin dei conti Esplorare i luoghi Infestati dai fantasmi È il suo lavoro Dove vuole arrivare? È sensibile A questo argomento Vero? Chiese Olin Sì Sensibile Ma non vulnerabile Se spera di convincermi Ad andarmene dal suo hotel Criticando i miei libri No Niente affatto Ero curioso Tutto qui Ho mandato Marcel Il portiere A prenderli due giorni fa Quando è comparso Con la sua Richiesta Era una pretesa Non una richiesta E lo è tuttora Ha sentito Mr. Robertson La legge dello stato di New York Per non parlare di un paio Di leggi federali Sui diritti civili Le impedisce di negarmi Una stanza specifica Se io la richiedo E la stanza è libera E la 1408 È libera La 1408 Lo è sempre Da un po' di tempo A questa parte Ma per il momento Mr. Olin Non si lasciò distrarre Dal tema Degli ultimi tre libri Di Mike Tutti comparsi Nella classifica Di best seller Del New York Times Li passò in rassegna Una terza volta La luce morbida Delle lampade Si rifletteva Sulle copertine lucide Dei libri Dove il viola Era il colore dominante A Mike avevano spiegato Che era quello Che faceva vendere meglio I libri dell'orrore Non ho potuto Immeggermi nella lettura Fino a questo pomeriggio Disse Olin Ho avuto molto da fare Come al solito Il Dolphin è piccolo Per gli standard di New York Ma il 90% delle camere È sempre occupato E ogni ospite Porta con sé Qualche problema Come me Olin accenna un sorriso Direi che lei rappresenta Un problema particolare Mister Enslin Lei Il suo Mister Robertson E tutte le vostre minacce Mike si sentì Nuovamente irritato Non aveva fatto Nessuna minaccia A meno di considerare Robertson come tale Era stato costretto A ricordare all'avvocato Proprio come si ricorda A un grimaldello Per forzare uno scrigno Dalla serratura Arrugginita Che non vuole aprirsi Con la chiave Non è tuo Quello scrigno Gli ricordò La vocina che aveva dentro Eppure le leggi Dello stato E quelle federali Affermavano il contrario Le leggi dicevano Che la camera 1408 Dell'hotel Dolphin Era a sua disposizione Se lui la voleva A meno che non fosse Già occupata Da qualcun altro Si accorse Che Olin lo stava fissando Sempre con quel sorrisino Come se avesse seguito Quasi parola per parola Il monologo interiore Di Mike Era imbarazzante Quella conversazione Lo faceva sentire Stranamente a disagio Gli pareva di essersi Messo sulla difensiva Sin da quando aveva Estratto il registratore Che di solito Intimidiva gli altri E l'aveva acceso Se c'è un senso In tutto questo Mister Olin Temo di averlo perso Di vista Un paio di battute fa È stata una lunga giornata Se la nostra disputa A proposito Della 1408 È conclusa Io andrei di sopra Ne ho letto uno Come li chiamerebbe lei Saggi? Racconti? La roba con cui pago le bollette Li chiamava Mike Ma non aveva intenzione Di dirlo Con il registratore acceso Neanche se il registratore Era il suo Storie Decise Olin Ne ho letta una Per libro Quella sulla casa Dei Rillsby Nel Kansas Dal libro Case infestate Ah sì Gli omicidi Della mannaia Il tizio Che aveva fatto A pezzettini I sei membri Della famiglia Di Eugene Rillsby Non era mai stato catturato Proprio quello E poi quella In cui descrive La notte Che ha trascorso in Alaska Accampato vicino Alle tombe Degli amanti suicidi Quelli che la gente Sostiene di continuare A vedere dalle parti Di Sitka E poi ancora Il reso conto Sulla notte passata Al castello di Garsby Quella era davvero Divertente Mi ha stupito Mike tendeva Sempre l'orecchio Per cogliere Anche la minima Sfumatura Di disprezzo Persino nei commenti Più innocenti Sui libri Delle dieci notti E sapeva Che sentiva Del disprezzo Anche dove non c'era Mike aveva scoperto Che poche creature Al mondo Sono così paranoiche Come uno scrittore Che nel profondo È convinto Di buttarsi via Ma questa volta Non aveva percepito nulla Immagino di doverla ringraziare Ribatte Rivolgendo uno sguardo Al registratore Di solito Quell'occhietto rosso Sembrava fissare Le persone Con cui Mike parlava Sfidandole A dire la cosa sbagliata Quella sera invece Sembrava osservare Proprio lui Oh sì Intendevo farle un complimento Rispose Olin Dando un paio di colpetti Con la mano sui libri Conto di leggere Anche le altre Ma non solo Per il modo In cui sono scritte Mi piace il suo stile Mi sono sorpreso A ridere di fronte Alle sue avventure Ben poco soprannaturali Nel castello di Gartsby E sono rimasto stupito Dalla sua bravura Dalla sua sottigliezza Mi aspettavo qualcosa Di più truculento Mike si preparò Psicologicamente Alla battuta Che di certo Sarebbe seguita Una variazione Di Olin Sul tema del Che ci fa una bella ragazza Come te In un posto come questo Olin Il raffinato Albergatore L'anfitrione Di donne bionde Che escono per la serata Con indosso Un elegante abito nero Il datore di lavoro Di allampanati pianisti Con lo smoking Ormai prossimi Al pensionamento Che strimpellano Vecchi successi Come in Iron Day Nel bar dell'hotel Olin L'uomo che probabilmente Leggeva Proust Nelle salate libere Tuttavia Questi libri Sono inquietanti Se non li avessi sfogliati Non credo Che sarei rimasto Ad aspettarla stasera Non appena ho visto L'avvocato Con la sua valigetta Ho capito Che era deciso A stare in quella Maledetta camera E che non avrei potuto Dirle niente Per dissuaderla Ma i libri Mike allungò la mano Per spegnere il registratore Quell'occhietto rosso Che lo fissava Cominciava a dargli brividi Lei vuole sapere Come mai pescone il torbido Vero? Immagino lo faccia per denaro Disse Olin In tono gentile E non pesca in acque Poi così torbide Almeno a mio avviso Anche se è interessante Che lei sia saltato Così rapidamente A questa conclusione Mike si sentì avvampare No Non stava affatto Andando come si era immaginato Non gli era mai capitato Di spegnere il registratore Nel bel mezzo Di una conversazione Ma Olin Non era l'uomo Che era sembrato Sono state le sue mani A portarmi fuori strada Pensò Mike Quelle manine grassocce Da albergatore Così curate Con le mezzelune bianche Delle unghie Quello che mi ha turbato Spaventato direi È l'essermi trovato A leggere il lavoro Di un uomo intelligente E pieno di talento Che non crede a una sola parola Di quanto ha scritto Non è proprio così Pensò Mike Aveva scritto forse Una ventina di racconti In cui credeva davvero E ne aveva anche pubblicato qualcuno Nei primi 18 mesi Trascorsi a New York Quando moriva di fame Lavorando per il Village Voice Aveva descritto Una tonnellata di poesie In cui credeva Aveva scritto Una tonnellata di poesie In cui credeva Ma credeva davvero Che il fantasma senza testa Di Eugene Rilsby Vagasse per la casa colonica Ormai vuota del Kansas Al chiaro di luna? No Ci aveva passato la notte Accampato sul pavimento Di linoleum sporco E tutto gobbe della cucina E la cosa più spaventosa Che aveva visto Erano stati due topolini Che passeggiavano Lungo il battiscopa Aveva trascorso Una fosa notte Estiva Fra le rovine del castello In cui si diceva Che Vlad Tepes Ancora tenesse corte Ma gli unici vampiri A presentarsi Erano stati Nugoli di zanzare Della Transilvania La volta in cui Si era accampato All'aperto Vicino alla tomba Del serial killer Jeffrey Dahmer Una figura pallida E regata di sangue Gli si era davvero Parata davanti Brandendo un coltello Al buio Alle due di notte Ma l'apparizione Era stata tradita Da un coro di risolini E comunque Mike Hensley Non si era lasciato Particolarmente impressionare Sapeva riconoscere A un ragazzino Travestito da fantasma Con in mano Un coltello di plastica Quando ne vedeva uno Ma non aveva intenzione Di dire niente Di tutto questo a Olin Non poteva permetterselo E invece poteva Il registratore Un errore sin dal principio Se ne era reso conto Era di nuovo spento E quell'incontro Era quanto di più Confidenziale Si potesse immaginare Inoltre Per qualche strano motivo Era arrivato al punto Di ammirare Olin E quando si prova Ammirazione per qualcuno Si desidera A dirgli la verità Infatti puntualizzò Non credo agli spiriti maligni Che si nutrono Di cadaveri E neppure ai fantasmi O ai mostri Con le zampe lunghe E penso sia un bene Che non esistano Perché non credo Nemmeno a un buon Dio Che possa proteggerci Ecco che cosa credo Ma ho sempre cercato Di essere aperto a tutto Fin dal principio Forse non vincerò mai Il premio Pulitzer Per aver fatto ricerche Sul fantasma Che latra nel cimitero Di Mount Hope Ma se si fosse presentato Ne avrei scritto Con imparzialità Olin disse qualcosa Una parola soltanto Ma a voce troppo bassa Perché Mike riuscisse a capire Prego? Ho detto no Olin lo guardò Con un'espressione Quasi di scusa Mike sospirò Dunque Olin pensava Che fosse un bugiardo Quando si arrivava a quel punto Le uniche due possibilità Erano prepararsi a combattere Oppure svincolarsi Completamente Dalla conversazione Perché non ne parliamo Un altro giorno Mister Olin? Vorrei solo salire In camera mia E lavarmi i denti Magari nello specchio Del bagno Vedrò Kevin O'Malley Materializzarsi Dietro di me Mike fece per alzarsi Ma Olin allungò una mano Grasso accia e ben curata Per fermarlo Non sto dicendo Che lei è un bugiardo Disse Ma Mr. Hensley Lei non ci crede I fantasmi appaiono di rado A coloro che non credono Alla loro esistenza E quando lo fanno Difficilmente vengono visti Eugene Rillsby Avrebbe potuto far rotolare La sua testa mozzata Lungo il corridoio Di casa sua E lei non avrebbe Comunque sentito niente Mike si alzò Chinandosi Per prendere la 24 ore Se è così Allora non c'è nulla Di cui debba preoccuparmi Nella camera 1408 Giusto? E invece sì Disse Olin Sì Perché non ci sono fantasmi Nella 1408 E non ce ne sono mai stati Ma c'è qualcosa là dentro L'ho sentito io stesso E non si tratta Della presenza Di uno spirito In una casa abbandonata Oppure nel torrione Di un vecchio castello Il suo scetticismo Può servirle Da protezione Nella camera 1408 Invece La renderà solo Più vulnerabile Non lo faccia Mr. Heslin Ecco perché L'ho aspettata stasera Per chiederle Anzi Per pregarla Di non farlo Di tutte le persone Al mondo Che non dovrebbero Entrare in quella stanza L'autore di quei divertenti Racconti commerciali Ispirati a presunti Fantasmi veri È in cima alla lista Mike sentì quelle parole Ma senza ascoltare E hai pure spento Il registratore Si rimproverava Mi mette in imbarazzo Al punto Da farmi spegnere Il registratore E poi si trasforma In Boris Karloff Che presenta Il festival della paura Fanculo Lo citerò comunque Se non gli va genio Che mi quereli pure D'un tratto Fremeva dalla voglia Di salire in camera Non solo per togliersi Finalmente Il pensiero Di passare una lunga notte In quella stanza d'angolo Ma anche per trascrivere Quello che aveva appena detto Olin Finché se lo ricordava Prenda qualcosa da bere Mister Enslin No veramente Mister Olin Infilò la mano Nella tasca della giacca Ed estrasse una chiave A cui era agganciata Una lunga targhetta D'ottone Il metallo era vecchio Ossidato E pieno di graffi Il rilievo Appariva nei numeri 1408 Per favore Aggiunse Olin Mi accontenti Mi conceda Altri dieci minuti Del suo tempo Quanto basta Per un dito Di scotch E io le consegnerò Questa chiave Darei qualsiasi cosa Per farle cambiare idea Ma mi piace pensare Di saper di conoscere L'inevitabile Quando mi ci trovo Di fronte Usate ancora chiavi Vere e proprie Chiese Mike Molto raffinato Un tocco di antico Il Dolphin È passato Alle tessere magnetiche Nel 1979 Mister Enslin L'anno in cui Sono subentrato Come direttore La 1408 È l'unica camera Dell'albergo Ad aprirsi ancora Con la chiave Non c'era motivo Di applicare Una serratura magnetica Alla porta Perché non c'è Mai nessuno dentro L'ultima volta In cui l'ho occupata Un cliente È stato nel 1978 Mi prende in giro Mike si rimise seduto E prese di nuovo Il registratore Premette sul pulsante record E disse Il direttore dell'hotel Olin Sostiene che la 1408 È rimasta vuota Per più di vent'anni Inoltre Una serratura magnetica Sarebbe inutile Perché sono assolutamente Certo che non funzionerebbe Nella 1408 Gli orologi da polso Digitali non funzionano A volte vanno indietro Altre sfasano E comunque Non permettono Di leggere l'ora Non nella 1408 Lo stesso vale Per calcolatrici Tascabili E telefoni cellulari Se per caso Non cerca persone Mr. Enslin Le consiglio di spegnerlo Perché non appena Sarà entrato Nella 1408 Comincerà a suonare A suo piacimento Fece una pausa Non garantisco Che ciò non accada Anche spegnendolo Potrebbe riaccendersi Da solo L'unica soluzione Efficace È togliere le pile Premette lo stop Del registratore Senza neppure Guardare i pulsanti Mike pensò Che forse usava Un modello simile Per dettare appunti In realtà Mr. Enslin L'unica soluzione Efficace È stare alla larga Da quell'accidente Di stanza Non posso farlo Rispose Mike Riprendendosi il registratore E rimettendolo via Ma penso di avere tempo Per quello scotch Mentre Olin Versava da bere Dal mobile bar Di quercia Posto sotto Un dipinto a olio Che riproduceva La quinta Avenio All'inizio del secolo Mike gli chiese Come facesse A sapere Che quei congegni Non funzionavano Nella 1408 Se non ci entrava Nessuno Dal 1978 Non intendevo dire Che è dal 1978 Che nessuno Ci mette più piede Ribatte Olin Innanzitutto Una volta al mese Ci entrano le cameriere A fare una rapida pulizia Significa Mike Che lavorava ormai Da quattro mesi A dieci camere d'albergo Infestate dai fantasmi Disse So che cosa significa In una stanza libra Voleva dire Aprire le finestre Per cambiare l'aria Spolverare Aggiungere abbastanza Disinfettante Nella tazza Da tingere Per un attimo L'acqua d'azzurro E cambiare gli asciugamani Probabilmente Non le lenzuola Trattandosi Di una pulizia rapida Si chiese Se avrebbe fatto meglio Se avrebbe fatto meglio A portarsi il sacco a pelo Mentre attraversava Il tappeto persiano Con i bicchieri in mano Olin sembra leggere I pensieri di Mike Sul suo volto Le lenzuola sono state cambiate Questo pomeriggio Mr. Henslin Perché non mi dà del tu? Mi chiami pure Mike Non credo che mi sentirei A mio agio Rispose Olin Porgendo a Mike Il suo scotch Alla sua salute E anche alla sua Mike sollevò il bicchiere Con l'intenzione Di farlo tintinnare Contro quello di Olin Ma lui ritrasse il proprio No A lei soltanto Mr. Henslin Insisto Questa sera Dovremmo entrambi Bere alla sua salute Ne ha bisogno Mike trasse un sospiro Fece tintinnare Il bordo del suo bicchiere Contro quello di Olin E disse Alla mia Mr. Henslin Lei sarebbe stato perfetto In un film dell'orrore Avrebbe potuto interpretare Il ruolo del maggiordomo Vecchio e tenebroso Che tenta di avvertire La giovane coppia Perché si allontani Dalle sventure del castello Olin si mise a ridere Grazie a Dio Non mi capita spesso Di interpretare questo ruolo La camera 1408 Non compare in nessuno Dei siti web Che trattano di luoghi In cui si avvertono Presenze paranormali Le cose cambieranno Dopo il mio libro Considera Mike Sorseggiando il suo scotch E lo Ted Dolphin Non figura Nell'itinerario Delle visite guidate Sui fantasmi di New York Al contrario Dello Sherry Netherland Del Plaza E del Park Lane Abbiamo mantenuto Il massimo riservo Sulla 1408 Per quanto ovviamente Nessuno potesse impedire A un ricercatore Fortunato e tenace Di scoprirne la storia Mike si concesse Un accenno di sorriso È stata vero Nick A cambiare le lenzuola Preciso Olin L'ho accompagnata io stesso Dovrebbe sentirsi Lusingato Mr. Enslin È quasi come se fosse Stata una regina A cambiarle la biancheria Da letto Veronique Veronique E sua sorella Sono arrivate al Dolphin Come cameriere ai piani Nel 1971 O 72 Vè come la chiamiamo noi Vi come la chiamiamo noi È la persona Che da più tempo Lavora nell'hotel Con almeno sei anni Di anzianità più di me Da allora è diventata Direttrice del personale Al piano Credo che negli ultimi sei mesi Non abbia mai cambiato Il lenzuolo Fino a oggi Ma si è sempre occupata Lei della 1408 Insieme a sua sorella Fino al 1992 circa Veronique e Celeste Erano gemelle E il legame che le univa Sembrava renderle Come potrei dire Non immuni Alla 1408 Ma in grado di resistere Al suo potere Almeno per il breve tempo Necessario per una pulizia rapida Adesso non mi dirà Che la sorella di questa Veronique È morta nella stanza Vero? No, niente affatto Rispose Olin Ha lasciato il lavoro Verso il 1988 Per problemi di salute Ma non escludo Che la 1408 Possa avere influito Sul peggioramento Delle sue condizioni Fisiche e mentali Ormai siamo quasi diventati amici Mister Olin Spero di non rovinare Il nostro rapporto Dicendole che Tutta questa faccenda Mi sembra ridicola Olin rise Lei è molto pragmatico Per essere uno studioso Dell'impalpabile Lo devo ai miei lettori Ribatte Mike In tono asciutto Immagino che avrei potuto Lasciare la 1408 Nello stato in cui Si trova la maggior parte Del tempo Riflette l'albergatore La porta chiusa chiave Le luci spente Le tende tirate Perché il sole Non faccia sbiadire il tappeto Il copriletto rincalzato E sul letto Il menù della colazione Da appendere alla porta Ma non sopporto l'idea Che l'aria diventi stantia Come dentro una soffitta Non sopporto l'idea Che la polvere Si accumuli Fino a diventare spessa E la nuginosa Questo atteggiamento Cosa fa di me? Un pignolo O un maniaco ossessivo? Fa di lei Un direttore di albergo Immagino abbia ragione In ogni caso Vi e Si Hanno rassettato Quella stanza Molto in fretta Entravano e uscivano Finché Si Non è andata in pensione E Vi ha avuto La prima promozione In seguito Ho sempre fatto in modo Che le cameriere Ci lavorassero in coppia Scegliendo persone Che andassero d'accordo Tra loro Nella speranza Che quel legame Tenesse testa Agli spettri Agli spettri Sì Sperando in quel legame E può prendersi Gioco degli spettri Della 1408 Quanto vuole Mister Enslin Ma li percepirà Non appena sarà entrato In quella stanza Ne sono sicuro Qualsiasi cosa Ci sia là dentro Non conosce la timidezza In molte occasioni Tutte le volte Che ho potuto Sono entrato insieme Con le cameriere Per vigilare su di loro Fece una pausa Poi aggiunse Quasi con riluttanza Per tirarle fuori Suppongo Nel caso in cui Fosse cominciato Ad accadere qualcosa Di veramente terribile Non è mai successo niente Molte hanno avuto Crisi di pianto Una cameriera Ha avuto un accesso di risa Non so per quale motivo Una persona che ride Senza controllo Possa essere più terrificante Di una che si inghiozza Ma è così E alcune sono svenute Niente di terribile Comunque Nel corso degli anni Ho avuto il tempo Di condurre Qualche esperimento rudimentale Con ricerca persone Telefoni cellulari E cose simili Ma non è accaduto Niente di terribile Grazie al cielo Fece un'altra pausa Poi con voce strana Inespressiva Giunse Una di loro È diventata cieca Come? È diventata cieca Si chiamava Romy van Gelder Stava spolverando Il televisore All'improvviso Ha cominciato a urlare Le ho chiesto Cos'era successo Ha lasciato cadere Lo straccio per la polvere E si è coperta Gli occhi con le mani Gridando che era diventata cieca Ma che vedeva I colori più allucinanti Sono scomparsi Non appena L'ho portata fuori Dalla stanza E mentre L'accompagnavo Lungo il cordidoio Fino all'ascensore La vista Le stava già tornando Lei mi sta raccontando Tutte queste cose Solo per spaventarmi Mr. Olin Non è vero? Per spaventarmi E farmi cambiare idea In realtà no Lei conosce già La storia della camera A partire dal suicidio Del suo primo occupante Era vero Kevin O'Malley Un venditore di macchine Per cucire Si era tolto la vita Il 13 ottobre 1910 Con un salto Si era lasciato alle spalle Una moglie E sette figli Dall'unica finestra Di quella stanza Si sono buttati Cinque uomini E una donna Mr. Enslin In quella camera Quattro donne E due uomini Hanno preso Una dose letale Di pillole Due sono stati Trovati a letto Due nel bagno Una nella vasca E un altro accasciato Sulla tazza del water Un uomo Si è impiccato Nell'armadio Nel 1970 Henry Storkin Disse Mike Forse in quel caso Si è trattato Di un incidente Asfissia erotica Può darsi C'è stato anche Randolph Hyde Che si è tagliato Le vene E mentre sanguinava Morte Si è reciso I genitali Tanto per andare Sul sicuro Quella volta Non si è trattato Di asfissia erotica Mr. Enslin Il punto È che se Tredici suicidi Nell'arco Di 68 anni Non riescono A farla Desistere Dalle sue Intenzioni Dubito Che potrebbero Riuscirci Sussulti E palpiti Di qualche cameriera Sussulti E palpiti Questa è carina Pensò Mike Chiedendosi Se avrebbe potuto Appropriarsene Per il libro Tra le cameriere Che hanno lavorato In coppia Nella 1408 In poche Sono riuscita A tornarci Per più Di qualche volta Spiegò Olin Bevendo L'ultimo sorso Di scotch A parte Le gemelle francesi Vi e sì È vero Annui Olin A Mike Non importava Molto Delle cameriere E dei loro Come li aveva chiamati Olin Dei loro sussulti E dei loro palpiti Si sentiva Leggermente demoralizzato Dai suicidi Enumerati da Olin Come se fosse Stato così Stolto Da non afferrare Non il fatto in sé Ma il suo significato Peccato che in realtà Non ci fosse nessun significato Sia Abraham Lincoln Sia John Kennedy Avevano un vicepresidente Che si chiamava Johnson I nomi Lincoln E Kennedy Sono entrambi Composti da sette lettere Entrambi i presidenti Sono stati eletti In anni La cui cifra Finisce con il numero 60 Che cosa dimostrano Tutte queste coincidenze? Assolutamente nulla I suicidi Costituiranno Uno splendido capitolo Nel mio libro Disse Mike Ma visto che il registratore È spento Posso dirle che Equivalgono A ciò che una Delle mie fonti statistiche Chiama Effetto grappolo Charles Dickens Lo chiamava Effetto patata Soggiunse Olin Prego Quando il fantasma Di Jacob Marley Parla per la prima volta Con Scrooge Lui gli risponde Che non può essere altro Che uno schizzo di senape Oppure un boccone Di patata mal cotta Dovrebbe farmi ridere Come lei Come lei del resto Mister Olin A giudicare dal suo aspetto Come lei del resto Mister Olin A giudicare dal suo aspetto Eppure quante volte È entrato e uscito Da quella camera? Cento? Duecento? Per periodi molto brevi Rispose Olin Si potrebbe dire Che è come entrare In una stanza satura Di gas asfissiante Se si trattiene il respiro Ci si può salvare Noto che non apprezza Il paragone Senza dubbio Lo trova forzato Forse ridicolo Ma secondo me Calza a pennello Si appoggia la mano Sotto il mento Sostenendolo È anche possibile Che alcuni reagiscano In maniera più rapida E violenta A qualunque cosa Vive in quella stanza Proprio come tra i subacquei Alcuni sono più predisposti Di altri all'embolia Nell'arco dei quasi Cento anni di attività Del Dolphin Il personale dell'hotel È diventato sempre più consapevole Della malignità Della 1408 È entrata nella storia Dell'albergo Mister Enslin Nessuno ne parla Così come nessuno Menziona il fatto che qui Come nella maggior parte Degli hotel Il quarto dicesimo piano È in realtà il tredicesimo Ma tutti lo sanno Se fossero resi noti Tutti i fatti E i dati relativi A quella stanza Racconterebbero Una storia incredibile Ancora più inquietante Di quanto potrebbe Piacere ai suoi lettori Immagino per esempio Che ogni hotel Di New York Sia stato teatro Di qualche suicidio Ma scommetto la vita Che solo al Dolphin Ne sono avvenuti tredici Sempre nella stessa stanza E anche a prescindere Da Celeste Romand Cosa mi dice Delle morti naturali Avvenute nella 1408 Le cosiddette Morti naturali Quante ce ne sono state Non gli era mai venuta in mente Quella possibilità Trenta Ribatte Olin Almeno trenta Per quante ne so Non è possibile Le parole Le parole gli sfuggirono Di bocca Prima che potesse trattenerle No Mr. Hensley Io l'assicuro Pensava davvero Che tenessimo chiusa Quella camera Solo per una superstizione Da vecchie comari Un po' tocche O per qualche ridicola Tradizione new yorkese O forse per l'idea Che ogni vecchio Telker si rispetti Debba avere almeno Uno spirito inquieto Che alleggia Sone nella suite Delle catene invisibili Mike Hensley Si rese conto Che proprio quell'idea Inespressa Ma comunque presente Lo aveva accompagnato Durante il lavoro Al nuovo libro Della serie Diecinotti Sentire Olin Che la scherniva Che la scherniva Con i toni indignati Di uno scienziato Che schernisce Un indigeno Fiero della propria stregoneria Non attenuava Certo il suo disappunto Nel nostro mestiere Esistono superstizioni E tradizioni Ma non lasciamo mai Che entrarci Nel nostro lavoro Mr. Hensley Nel Midwest Dove ho cominciato a lavorare C'è un vecchio detto Non esistono camere Piene di spifferi Quando i mandriani Arrivano in città Se ci sono camere vuote Le occupiamo L'unica eccezione Che io abbia mai fatto A questa regola E l'unica discussione In merito Che abbia mai avuto Riguardo alla 1408 Una stanza Del tredicesimo piano Le cui cifre sommate Danno 13 Olin guarda Mike Hensley Con calma Non sono avvenuti Le pulizie E tuttavia so di molte cameriere Che hanno lavorato Nella 1408 E che ora soffrono Bravura di Olin Se avesse fatto Ma non appena Ma non appena le ebbe impresso Il movimento Andò tutto bene All'allungò verso la chiave Senza che gli tremassero Minimamente le dita Almeno per quanto Poteva vedere Ottimo Disse afferrando La consunta targhetta Dottone Per di più Indosso la mia camicia Hawaiiana portafortuna Olin insistette Per accompagnare Mike In ascensore Fino al 14esimo piano E lui non fece obiezione Era curioso di vedere Se quando fossero usciti Dall'ufficio E si fossero avviati Lungo il corridoio Il direttore avrebbe perso La sua aria sicura Infatti Tornò a essere Il povero Mr. Olin Il lacche Caduto nelle grinfie Dello scrittore Un uomo in smoking Li fermò Mike immaginò Che fosse il direttore Del ristorante Oppure il maître D'hotel Diede a Olin Un sottile plico di fogli E gli sussurra Qualcosa in francese Olin gli rispose Con un sussurro annuendo E scarabocchiò La sua firma Il pianista del bar Ora suonava Autumn in New York Da lontano Si percepiva solo un eco Quasi fosse musica Sentita in sogno L'uomo con lo smoking Disse Merci bien E se ne andò Mike e il direttore Proseguirono Olin si offrì di nuovo Di portare la valigetta Di Mike Ma lui rifiutò ancora In ascensore Lo sguardo di Mike Venne attirato Dalle tre fila Ordinate di pulsanti Ogni cosa era al suo posto Non mancava niente Eppure Osservando con più attenzione Ci si accorgeva Che invece Non era così Il pulsante con il numero 12 Era seguito da un altro Con il numero 14 Come se potessero cancellare Quel numero Semplicemente saltando Dalla pulsantiera Di un ascensore Pensò Mike Follia pura Tuttavia Olin aveva ragione Lo facevano in tutto il mondo Quando la cabina Cominciò a salire Mike disse Sono curioso Di sapere una cosa Perché non ha creato Un ospite fittizio Se la camera 1408 La spaventa così tanto Come dice A quel punto Mr. Olin Perché non dichiarare Che è la sua residenza Forse perché Temevo di essere accusato Di frode Se non da chi Se non da chi È responsabile Di far rispettare Le leggi statali E federali Sui diritti civili E in proposito Noi albergatori La pensiamo Come molti Dei suoi lettori Riguardo al rumore Di catene agitate Nella notte Dai miei superiori Se ne fossero venuti A conoscenza Se non sono riuscito A persuadere lei A stare lontano Dalla 1408 Dubito che avrei avuto Più fortuna Nel convincere Il consiglio di amministrazione Della Stanley Corporation Che avevo tolto dal mercato Una stanza In perfette condizioni Solo perché ho paura Che gli spettri Spingano qualche venditore Di passaggio A saltare dalla finestra E a spiaccicarsi Sulla sessantunesima Mike pensò Che era la frase Più inquietante Che Olin Avesse detto Fino a quel momento Perché non sta più Tentando di convincermi Pensò Appena è uscito Ha perso Tutta la capacità Di persuasione Che aveva nel suo ufficio Chissà Forse è una vibrazione Emanata dal tappeto persiano È autorevole Questo sì Era chiaro Mentre firmava Le carte del metri d'hotel Ma non ha più La minima capacità Di persuasione E nemmeno il suo magnetismo Non qui fuori Però ci crede Crede a tutto ciò Che ha detto Sopra la porta La luce in corrispondenza Del numero 12 Si spense E si accese sotto il 14 L'ascensore si arrestò La porta si aprì Rivelando un normalissimo Corridoio d'albergo Con un tappeto rosso e dorato Decisamente non un persiano E applic Alla foggia di lumi a gas Del XIX secolo Eccoci Annunciò Olin Il suo piano Mi perdonerà Se la saluto qui La 1408 È alla sua sinistra In fondo al corridoio A meno che non possa Assolutamente evitarlo Più di così Non mi avvicino Mike Hensley Uscì dall'ascensore Su gambe Che sembravano Più pesanti del dovuto Si voltò verso Olin Un ometto tozzo Con indosso una giacca nera E una cravatta Color vinaccia Perfettamente annodata Ora stringeva le mani Ben curate Dietro la schiena E Mike vide Che aveva il volto pallido Come un cencio La fronte alta e liscia Era imperlata di sudore In camera c'è un telefono Ovviamente Disse Olin Può provare a usarlo Se avesse dei problemi Ma dubito Che funzionerebbe Non se la stanza non vuole Mike pensò di rispondere Con una battuta di spirito Sul fatto che almeno Avrebbe risparmiato Sul servizio in camera Ma ad un tratto Gli sembra di avere La lingua pesante Come le gambe La sentiva inerte Nella bocca Olin allungò Una mano E Mike Mike vide che tremava Mr. Enslin Disse Mike non lo faccia Per l'amor di Dio Prima che finisse La porta dell'ascensore Si chiuse Troncando la frase a metà Per un attimo Mike rimase dove era Nel silenzio perfetto Di un hotel di New York Su quello che Nessun componente Del personale Avrebbe ammesso Fosse il tredicesimo Piano del Dolphin Per un istante Pensò di richiamare L'ascensore Però se lo avesse fatto Olin avrebbe vinto E al posto Del capitolo migliore Del libro Ci sarebbe stato Un grande vuoto Forse i lettori Non l'avrebbero saputo E neanche l'editor E il suo agente E neppure L'avvocato Robertson Ma lui sì Invece di premere Il pulsante di chiamata Alzò la mano Per toccare la sigaretta Che teneva dietro l'orecchio Quel vecchio gesto distratto Che non si accorgeva Più di fare E si aggiustò Il colletto Della camicia Porta fortuna Poi si avviò Lungo il corridoio Verso la 1408 Facendo oscillare La 24 ore Che teneva in mano L'oggetto più interessante Rimasto In seguito Al breve soggiorno Durò circa 60 minuti Di Mike Hensley Nella camera 1408 Fu il nastro Contenuto nel registratore Che venne danneggiato Dal fuoco Ma non distrutto L'aspetto affascinante Di quegli 11 minuti Di registrazione Era che si trattava Di commenti molto frammentari Che si facevano Sempre più strani L'apparecchio Gli era stato regalato Cinque anni prima Dalla ex moglie Con cui era rimasto In buoni rapporti Quando era partito Per la sua prima spedizione Alla casa dei Reelsby Nel Kansas Aveva deciso Di portarselo dietro Solo all'ultimo minuto Assieme a cinque blocchi Di carta gialla E a un astuccio di pelle Pieno di matite Bentemperate Quando si fermò Davanti alla porta Della camera 1408 Dell'hotel Dolphin Tre libri più tardi Aveva con sé Un'unica penna Secondo le dicerie Aveva strellato Come una ragazzina Che entra per la prima volta Nella casa di fantasmi A Luna Park Quando lo faceva Ascoltare agli amici Immancabilmente ridevano Il piccolo registratore Era anche più pratico Degli appunti scritti Soprattutto quando Ci si trova accampati In un freddo cimitero Del New Brunswick Durante un temporale Una raffica di vento Faceva crollare La tenda Alle tre del mattino In circostanze simili Non era facile Prendere appunti Ma si poteva sempre parlare Ed era proprio Quello che Mike Aveva fatto Aveva continuato A parlare Mentre annaspava Per togliersi di dosso La tela fradicia Della tenda Che il vento Continuava a sbattergli addosso Senza mai perdere di vista L'occhio rosso E amichevole Nel corso degli anni E delle spedizioni Il registratore Era diventato un amico Sul nastro sottile Che scorreva Tra le bobine Mike non aveva mai Registrato l'esperienza diretta Di una vera manifestazione Soprannaturale Compresi i commenti Frammentari Che aveva deciso Mentre stava Nella 1408 Ma forse Non c'era da sorprendersi Che avesse sviluppato Un tale affetto Per quell'aggeggio I camionisti Arrivano al punto Di adorare I loro bestioni Gli scrittori Costudiscono gelosamente Una determinata penna O una macchina Per scrivere Mardidotta Le donne delle polizie Si rifiutano Di rinunciare Alle loro vecchie Electrolux Mike non aveva mai dovuto Far fronte a un fantasma O un evento Psicocinetico Vero e proprio Armato soltanto Del registratore Che per lui Aveva la stessa funzione Di una croce O di una collana d'aglio Ma quell'aggeggio Gli aveva fatto compagnia In numerose notti Fredde e scomode Mike era un realista Ma non per questo Era disumano I problemi Con la 1408 Cominciarono ancora Prima di entrare Nella stanza La porta era sghemba Non molto Ma lo era Pendeva leggermente Sulla sinistra Pensò subito A quei film Dell'ordore In cui il regista Cerca di mostrare Il disagio Di uno dei protagonisti Inclinando la macchina Da presa Nelle inquadrature soggettive A questa associazione Ne seguì un'altra Pensò all'aspetto Che hanno le porte Sulle imbarcazioni Quando il mare è agitato Ondeggiano da una parte All'altra Da destra a sinistra Oscillano come un pendolo Finché non ci si sente Frastornati E con lo stomaco Sotto sopra Non che lui si sentisse Proprio in quel modo Niente affatto Ma Sì mi sento così Solo un po' Ed era pronto A riconoscerlo Se non altro Per contraddire L'insinuazione di Olin Secondo cui Il suo atteggiamento Gli impediva Di essere corretto Nel campo Senza dubbio O soggettivo Senza dubbio O soggettivo Del giornalismo O del paranormale Sì chi no Accorgendosi Che la lieve Sensazione di nausea Era scomparsa Non appena aveva Dissolto lo sguardo Da quella porta Un po' sgangherata Aprì la tasca Della 24 ore Ed estrasse il registratore Rialzandosi Premette il tasto record E vide l'occhietto rosso Illuminarsi Poi aprì la bocca Per dire La porta della camera 1408 Porge il suo particolare saluto Appare sghemba Inclinata Leggermente sulla sinistra Ma disse solo La porta Nient'altro Ascoltando la cassetta Si sentono con chiarezza Entrambe le parole E poi il click Del pulsante stop Perché la porta Non era sghemba Era perfettamente dritta Mike si voltò Guardò la porta di fronte Della 1409 E poi di nuovo Quella della 1408 Erano identiche Bianche con le targhette Dei numeri dorate Così come le maniglie Dritte entrambe Mike si chinò Raccorse la valigetta Con la stessa mano Con cui reggeva il registratore E con l'altra Avvicinò la chiave Nella serratura Poi si fermò ancora La porta Era di nuovo sghemba Questa volta Pendeva leggermente Sulla destra È ridicolo Mormorò Mike Ma gli era tornato Di nuovo Il voltastomaco Non solo assomigliava Al mal di mare Era il mal di mare Un paio di anni prima Aveva fatto la traversata Fino in Inghilterra Sul Queen Elizabeth II E una notte L'oceano Era stato molto agitato Mike ricordava Ricordava perfettamente Di essere rimasto sdraiato Sulla cuccietta in cabina Sempre sul punto Di vomitare Ma senza mai riuscirci E ricordava anche Che la sensazione Di vertigine E di nausea Peggiorava Quando guardava la porta O il tavolo Oppure la sedia Che ondeggiavano Da una parte all'altra A destra e a sinistra Oscillavano Come un pendolo È colpa di Olin Pensò È proprio quello che vuole Amico Ti ha influenzato lui Ti ha suggestionato Che risate Si farebbe Se potesse vederti Che Si interruppe Non appena si rese conto Che molto probabilmente Olin lo stava osservando Sul serio Mike guardò In fondo al corridoio Verso l'ascensore Senza quasi accorgersi Che la leggera sensazione Di nausea Era svanita Quando aveva smesso Di guardare la porta Sopra gli ascensori Sulla sinistra Vide quello che si era aspettato Una telecamera A circuito chiuso Forse in quel preciso istante Un sorvegliante Dell'albergo Lo stava guardando E Mike era pronto A scommettere Che anche Olin Fosse presente E che tutti e due Stessero ridendo Alle sue spalle Così impara A venire qui E a dettar legge Con il suo avvocato Dice Olin Guardi che roba Ribatte l'addetto L'addetto alla sorveglianza Ridacchiando più che mai È pallido Come se fosse lui Un fantasma E non ha ancora Messo la chiave Nella serratura Ci ha cascato capo Ha boccato in pieno Non ci casco neanche Per sogno Penso Mike Sono stato Nella casa dei Risby Ho dormito Nella stanza In cui almeno due di loro Sono stati uccisi E ho dormito davvero Che ci si creda o no Ho passato una notte Di fianco alla tomba Di Jeffrey Dahmer A poche lapidi di distanza Da dove è sepolto H.P. Lovecraft Mi sono lavato i denti Vicino alla vasca da bagno Dove si dice Che Sir David Smythe Abbia annegato Entrambe le mogli È da un sacco di tempo Che non ho più paura Delle storie dell'orrore Che si raccontano In un campeggio Non ci casco neanche morto Tornò a guardare la porta Era dritta Borbottò Poi infilò la chiave Nella serratura E la girò La porta si aprì Mike entrò nella stanza Mentre tastava il muro Alla ricerca dell'interruttore Della luce La porta non si chiuse Lentamente dietro di lui Facendolo piombare Nell'oscurità più totale Del resto della finestra Entravano anche le luci Dell'edificio accanto Mike trovò l'interruttore Lo fece scattare E il lampadario sul soffitto Carico di pendenti di cristallo Si accese Così come la lampada stelo Vicino allo scrittoio In fondo alla stanza La finestra era davanti Allo scrittoio Così che chiunque Si fosse seduto lì a lavorare Avrebbe potuto fare una pausa E guardare fuori Sulla sessantunesima Oppure buttarsi di sotto Se ne avesse avvertito l'impulso Però Appena è entrato Mike appoggia a terra La valigetta Chiuse la porta E premette di nuovo Il tasto record La lucina rossa Si accese Secondo Olin Sei persone si sono gettate Dalla finestra Che sto osservando In questo momento Esordì Ma stasera Non potrò fare un tuffo Dal quattordicesimo Scusate Tredicesimo Piano dell'hotel Dolphin Fuori dalla finestra C'è una grata di ferro O d'acciaio Prevenire È meglio che curare Immagino si possa dire Che la 1408 Sia una suite standard Nella stanza in cui mi trovo Ci sono due sedie Un divano Uno scrittoio Un mobiletto Che probabilmente Contiene un televisore E forse un minibar Quello sul pavimento È un normalissimo tappeto Nulla di paragonabile Al persiano di Olin Comunque Carta da parati Come sopra È Un momento A questo punto Si sente un altro click Quando Mike premette Di nuovo il tasto stop I brevi commenti Registrati Sono altrettanto frammentari L'esatto contrario Rispetto agli altri 150 nastri Circa In mano al suo agente letterario Inoltre La voce di Mike Diventa sempre più turbata Non è quella di un uomo Che sta lavorando Piuttosto è la voce perplessa Di una persona Che ha cominciato a parlare Tra sé Senza rendersene conto Il carattere ellittico Dei commenti E la crescente confusione Mentale del parlante Generano Nella maggior parte Degli ascoltatori Una netta sensazione Di inquietudine Parecchi chiedono Di spegnere il registratore Molto prima Della fine della cassetta Le parole trascritte Sulla pagina Non bastano A trasmettere La convinzione Che si fa sempre più forte Nell'ascoltatore Cioè che la persona Che ha registrato Quei commenti Stia perdendo Se non le proprie Facoltà mentali Almeno il controllo Della realtà Eppure Anche le semplici parole Lasciano capire Che qualcosa Sta succedendo In quel momento Mike aveva notato I quadri alle pareti Ce n'erano tre Una donna in piedi Su una scalinata Con indosso Un abito In stile anni venti Un veliero Alla maniera Di courier And eves E una natura Morta con frutta Arance Banane E mele Dipinte di un fastidioso Giallo arancio Tutti e tre I quadri Avevano cornici di vetro Tutti e tre Erano storti Era stato sul punto Di commentare Quel fatto Ma dopo tutto Cosa c'era Di così strano Di così degno Di nota In tre quadri storti Che una porta Fosse sghemba Beh Quel particolare Aveva un pizzico Del fascino Del vecchio gabinetto Del dottor Caligari Ma la porta Non era sghemba Per un attimo Era stato ingannato Dai suoi stessi occhi Ecco tutto Il dipinto della donna Sulle scale Era inclinato Verso sinistra Come quello Del veliero Che ritraeva Corpulenti marinai Britannici Allineati lungo Il parapetto Ad ammirare Un gruppo Di pesci volanti Il quadro Con la frutta Giallo arancio A Mike Sembrava un cesto Di frutta Dipinto alla luce Di un soffocante Sole equatoriale Un sole del deserto Che sarebbe piaciuto A Paul Bowles Era inclinato Verso destra Sebbene di solito Non fosse un pignolo Fece il giro Della stanza Per raddrizzarli Vederli storti E gli faceva sentire Ancora un po' di nausea D'altronde Non era sorpreso A bordo del Queen Elisabeth II Aveva scoperto Che era una sensazione Che tendeva a ripresentarsi Di frequente Gli era stato detto Che se fosse riuscito A sopportare Quella fase Di malessere accentuato Sarebbe probabilmente Riuscito ad adattarsi Avrebbe fatto Il piede marino Come dicevano ancora Certi vecchi lupi di mare Mike non aveva Navigato abbastanza Per farsi il piede marino E non gli importava neanche In quei giorni Si era tenuto I suoi piedi terrestri E se raddrizzare I tre dipinti Nel salottino Insignificante Della 1408 Fosse bastato Rimetterli in sesto Lo stomaco Tanto meglio Il vetro che copriva I dipinti Era impolverato Passò le dita Sulla natura morta Lasciando due strisce Parallele La polvere Era unta Ai visci dal tatto Proprio come La seta Prima di marcire Gli venne in mente Ma non avrebbe registrato Quel commento Neanche morto Come faceva lui A sapere come era la seta Al tatto Prima di marcire Era un pensiero Da ubriachi Dopo aver raddrizzato I quadri Fece un passo indietro E li osservò Con attenzione La donna In abito da sera Vicino alla porta Che conduceva In camera da letto Il veliero Che sulcava Uno dei sette mari Alla sinistra Dello scrittoio E in ultimo La frutta Dipinta in maniera pessima Vicino al mobiletto Del televisore Una parte di lui Si aspettava Che fossero di nuovo storti O di vederli muoversi Proprio davanti agli occhi Era così che succedeva In film come La casa dei fantasmi E nei vecchi episodi Di Ai confini della realtà Ma i dipinti Rimasero perfettamente dritti Come li aveva disposti lui A dire il vero Si disse Non ci avrebbe trovato Nulla di soprannaturale O di paranormale Se fossero tornati storti L'esperienza gli insegnava Che le cose Tendevano a ripristinare La loro condizione precedente Chi smetteva di fumare Senza rendersene conto Toccò la sigaretta Appoggiata dietro l'orecchio Voleva riprendere E i quadri rimasti sghembi Dall'epoca in cui Nixon era presidente Volevano tornare A essere sghembi Sono appesi qui Da un sacco di tempo Senza dubbio Pensò Mike Se li togliessi dai muri Rimarrebbero delle sagome Più chiare Sulla carta da parati Oppure ci ritroverei Degli insetti Che si contorcono Come quando si sposta Un sasso C'era qualcosa di spaventoso E di tremendo In quell'idea Che gli venne in mente Assieme all'immagine vivida Di vermi bianchi E ciechi Che collavano come pus Dalla carta da parati Sbiadita E appena messa nudo Mike sollevò il registratore Premette record E disse Di certo Olin Ha messo in moto Un treno di pensieri Nella mia mente Oppure una catena Com'è che si dice? Era deciso A farmi venire La pelle d'oca E senza dubbio Ci ha riuscito Ma in fondo Un momento In fondo mai In fondo Perché mai si dice Pelle d'oca? Le ocche non hanno le piume Allora si dovrebbe dire La pelle di piume d'oca Ma è ridicolo Non ha senso È A questo punto Sul nastro si sente Mike Che con un tono chiaro È deciso Dice Devo riprendere il controllo Adesso Alle parole segue Un altro click Il registratore È stato spento di nuovo Chiuse gli occhi E trasse quattro Lunghi respiri profondi E controllati Contando fino a cinque Mentre tratteneva il fiato Prima di espirare Non gli era mai successo Niente di simile Nelle case Nei cimiteri O nei castelli Che avevano la fama Di essere infestati Dai fantasmi Non gli sembrava affatto Di essere perseguitato Dagli spettri O perlomeno Non era così Che immaginava Ci si sentisse In quella situazione Gli pareva invece Di essersi fatto Di una droga Da quattro soldi È stato Olin Ti ha ipnotizzato Ma ti riprenderai Passerei la notte In questa stramaledetta stanza E non solo perché È il posto migliore In cui sei mai stato Anche senza considerare Olin Ne hai già abbastanza Per scrivere la migliore storia Di fantasmi Degli ultimi dieci anni Ma perché Olin Non deve averla vinta Lui e le sue stronzate Sulle trenta persone morte Qui dentro Non devono averla vinta Di questo genere di stronzate Mi occupo soltanto io Da queste parti Quindi inspira Ed espira Inspira Ed espira Dentro E fuori Andò avanti così Per circa novanta secondi E quando riapri gli occhi Si sentiva bene I quadri alle pareti Ancora dritti La frutta nel cesto Ancora giallo-arancio E più brutta che mai Sì Erano proprio frutti Che venivano dal deserto A mangiarseli C'era da restare seduti Sul cesso per ore Premette il tasto record La luce rossa si accese Per un paio di minuti Ho avuto le vertigini Disse attraversando la stanza Per raggiungere lo scrittoio E la finestra Con la griglia protettiva Forse erano soli postumi Delle chiacchiere di Olin Ma mi sembrava di percepire Un'autentica presenza Qui dentro Ovviamente non era vero Ma dopo aver registrato Quelle parole Avrebbe potuto scrivere Qualsiasi cosa L'aria è viziata Non sa di chiuso E non c'è nessun cattivo odore Olin ha detto Che cambiano l'aria Ogni volta che vengono A fare le pulizie Ma si fermano per poco tempo E... Sì L'aria è viziata Ehi ma guarda Sullo scrittoio C'era un posacenere Di quelli piccoli di vetro Spesso usati negli hotel Di tutto il mondo E dentro c'era Una scatola di fiammiferi Sul davanti c'era Un'immagine Dell'hotel Dolphin All'ingresso C'era piazzato Un portiere sorridente Con indosso Un uniforme antiquata Di quelle con le spalline Le guarnizioni dorate E un berretto Che sembrava uscire dritto Da un locale gay Le automobili Le automobili che percorrevano La quinta avenue Erano di un'altra epoca Packard and Hudson Stadbaker And Chrysler New Yorker Con tanto di pinna La scatola di fiammiferi Dentro il posacenere Risale forse al 1955 Disse Mike E la infilò Nella tasca Della sua camicia Hawaiiana Portafortuna Me la prendo Come souvenir Adesso ci vuole Un po' di aria fresca Si sente un rumore sordo Quando il registratore Viene appoggiato Su un piano Probabilmente lo scrittoio Poi una pausa Seguita da rumori indistinti E da qualche borbottio Un'altra pausa E infine un cigolio Vittoria Dice L'esclamazione Si sente a malapena Mentre le frasi successive Sono più chiare Vittoria Ripete Mike Riprendendo l'aggeggio Dallo scrittoio La parte inferiore Della finestra Non voleva aprirsi Come se fosse stata inchiodata Ma la parte superiore Si è aperta senza problemi Sento il traffico Sulla Quinta Avenue E il frassuono dei clacson È confortante Qualcuno sta suonando Un sassofono Forse di fronte al plaza Che è dall'altra parte Della strada A due isolati da qui Mi ricorda mio fratello Mike si interroppe di colpo Fissando la lucina rossa Che sembrava accusarlo Suo fratello Era morto Un altro caduto Nella guerra del tabacco Poi si rilassò E allora Qui si trattava di guerra Contro gli spettri E Michael Henslin Ne era sempre uscito vincitore Quanto a Donald Henslin In realtà mio fratello È stato sbrannato dai lupi In un inverno Su un'autostrada Del Connecticut Disse Poi rise e premette stop C'è qualcos'altro sul nastro Poco altro Ma queste sono le ultime parole coerenti Le ultime parole A cui si possa attribuire Un significato preciso Mike si voltò E guardò i dipinti Ancora dritti Da quei bravi quadretti Che erano Però quella natura morta Faceva proprio schifo Premette record E disse due parole Arance e fumanti Nel registratore Poi lo spense di nuovo E andò alla soglia Della camera da letto Si fermò per un istante Vicino alla donna In abito da sera E allungò il braccio Nell'oscurità Alla ricerca dell'interruttore Ebbe solo un momento Per rendersi conto Sembra pelle Vecchia pelle morta Che c'era qualcosa di strano Sulla carta da parati Che sentiva sotto le dita Poi trovò l'interruttore La stanza da letto Si riempì di luce gialla Proveniente Da un altro lampadario Carico di gingili Di cristallo Il letto matrimoniale Era nascosto Da un copriletto Giallo arancio Perché dire nascosto? Chiese Mike Al registratore Poi premette ancora Il tasto stop Entrò nella stanza Incantato dal deserto Incandescente Del copriletto Dalle escrescenze tumorali Dei cuscini che ricopriva Dormire lì? No signore Neanche per sogno Sarebbe stato come dormire Dentro quella maledetta Natura morta Dormire in quella Orribile stanza roventa Alla Paul Bowles Che non si riusciva Neanche a vedere Una stanza per inglesi Espatriati e squilibrati Resi ciechi Dalla sifilide Che si erano beccati Fottendosi le proprie madri E la cui versione Cinematografica Avrebbe potuto essere Interpretata da Lawrence Harvey O Jeremy Irons O da un altro Di quegli attori Che venivano naturalmente Associati ad atti Naturali Mike premette record La lucina rossa Si accese E lui disse nel microfono L'Orfeo dei teatri Orfeum Poi schiacciò di nuovo Il tasto stop Si avvicinò al letto Il giallo-arancio Della coperta Era accecante La carta da parati Forse color panna Alla luce del giorno Rifletteva lo stesso Bagliore giallognolo Giallo-arancio Del copriletto Ai lati del letto C'erano due comodini Su uno C'era un telefono Grande e nero Antiquato I buchi nel disco Combinatorio Sembravano occhi Spalancati per la sorpresa Sull'altro comodino C'era un piatto Con una prugna Mike premette Il tasto record E disse Non è una vera prugna È di plastica Poi schiacciò di nuovo Lo stop Sul letto c'era Un menù della colazione Da appendere alla porta Mike si infilò Con cautela Nello spazio Tra il letto e la parete Cercando di non toccare Nell'uno o nell'altra E prese il menù Aveva cercato Di non toccare Nemmeno il copriletto Ma lo sfirò Con la punta delle dita Ed emise un gemito Era soffice Ma c'era qualcosa Di terribile In quella morbidezza Comunque prese il menù Era scritto in francese E sebbene avesse Smesso di studiarlo Da anni Gli parve di capire Che uno dei piatti Fosse uccelletti Arrostiti nella merda Perlomeno Sembrava una cosa Che i francesi Potrebbero effettivamente Mangiare Pensò E poi fece una risata Nervosa e sguaiata Chiuse gli occhi E li riaprì Il menù Era scritto in russo Chiuse gli occhi E li riaprì di nuovo Il menù Era in italiano Li chiuse E li riaprì ancora Il menù Era scomparso C'era una xilografia Che rappresentava Un ragazzino urlante Che si guardava Dietro le spalle Mentre un lupo Gli ingoiava La gamba sinistra Fino al ginocchio Il lupo aveva Le orecchie abbassate E sembrava un terrier Con il suo giocattolo preferito Non vedo davvero Queste cose Pensò Mike Ed era proprio così Senza chiudere gli occhi Distinse delle righe Ben ordinate Di parole inglesi Che elencavano Ciascuna Una diversa delizia Per la colazione Uova Cialde Frutti di bosco Niente uccelletti Arrostiti nella merda Eppure Si girò E con molta lentezza Uscì dallo spazio angusto Tra la parete e il letto Uno spazio che ora Sembrava stretto Come quello di una vara Il cuore gli batteva così forte Che ne sentiva il battito in gola E ai polsi Oltre che nel petto Gli pulsavano gli occhi Nelle orbite Nella 1408 C'era qualcosa di sbagliato Certo Qualcosa di molto sbagliato Olin aveva parlato Di gas asfissiante E Mike si sentiva proprio Come se avesse inalato del gas O fosse stato costretto A fumare hashish Molto forte Tagliato con qualche insetticida Era stato Olin Ovvio Forse con la connivenza Sghignazzante Degli addetti alla sicurezza Aveva immesso Uno speciale gas velenoso Attraverso l'impianto Di ventilazione Solo perché Non vedeva nessuna bocchetta Dell'aria Non voleva dire Che non ce ne fossero Mike si guardò intorno Con occhi sbarrati Atterriti La prugna sul comodino Di fianco al letto Era scomparsa Non c'era più neanche Il piatto Il ripiano Era sgombro Si girò Fece per andare Verso la porta Che conduceva nel salottino Ma poi si fermò Alla parete c'era un quadro Non poteva esserne certo In quello stato Non era più sicuro Nemmeno di come si chiamava Ma era quasi sicuro Che quel quadro Non ci fosse Quando era entrato Nella stanza Era una natura morta Un'unica prugna Di nuovo storti Ed erano subentrati Altri cambiamenti La donna sulle scale Si era abbassata La parte superiore Del vestito E mostrava i seni Che stringeva tra le mani Da entrambi i capezzoli Fuoriusciva una goccia Di sangue La donna fissava Mike Dritto negli occhi E sorrideva con ferocia Aveva i denti affilati Cannibaleschi Dietro il parapetto Del veliero invece I marinai Erano stati sostituiti Da una fila di donne E uomini pallidi L'uomo più a sinistra Vicino alla prua Indossava un abito Di lana marrone E teneva una bombetta Aveva i capelli impomatati Divisi da una riga e mezzo E lo sguardo sconvolto Assente Mike sapeva come si chiamava Kevin O'Malley Il primo ospite Di quella stanza Un venditore di macchine Per cucire Che si era gettato Da quella finestra Nell'ottobre del 1910 Alla sinistra di O'Malley Seguivano tutte Le altre persone morte Nella 1408 Tutte con lo stesso sguardo Verso nel vuoto La stessa espressione sconvolta Sembravano uniti Da un legame di parentela Membri della stessa famiglia Frutto di incesti E disastrosamente ritardata Nel quadro dove prima C'era la natura morta Ora appariva La testa mozzata Di un uomo Le guance incavate Le labbra pendule Gli occhi ai vitri E la sigaretta dietro l'orecchio Mandavano una luce giallo-arancio Mike barcollò verso la porta A ogni passo Sentiva lo stesso risucchio di prima E ora quasi gli sembrava Che le suole restassero incollate Al pavimento La porta non si apriva Naturalmente La catenella di sicurezza Non era inserita Il catenaccio Era dritto come le lancette Di un orologio Che segna le sei in punto Ma la porta non si apriva Mike si girò ansimando E guadò la stanza Era proprio quella La sensazione che aveva Fino allo scrittoio Vide le tende Ondeggiare leggermente Ai lati della finestra Che aveva aperto a forza Ma non sentiva neanche Un redefolo di aria fresca Sul viso Era come se la stanza La stesse inghiottendo Sentiva ancora i claxon Sulla quinta avenue Ma molto distanti Sentiva ancora il sassofono Anche se fosse stato così La stanza Ne aveva carpito Tutta la dolcezza E la melodia Lasciando solo Un suono stridulo E atonale Come quello del vento Che soffia attraverso il foro Nel collo di un morto O in una bottiglia Piena di dita mozzate Oppure Smettila Cercò di imporsi Ma non riusciva più a parlare Il cuore gli martellava Nel petto A un ritmo impressionante Se avesse accelerato ancora Sarebbe scoppiato In mano non aveva più Il registratore Fedele compagno Di numerose spedizioni L'aveva lasciato da qualche parte Nella stanza da letto Se era così Forse ormai era scomparso Ingurgitato dalla camera Una volta digerito Sarebbe stato espulso In qualche quadro Ansando come un corridore Prossimo alla fine Di una lunga gara Mike si appoggia Una mano sul petto Come per placare I battiti del cuore Nella tasca sinistra Della camicia sgargiante Sentì la nota sagoma Piccola e squadrata Sentire nella mano Quell'oggetto solido E familiare Lo calmò in parte E Mike si riprese un po' Si accorse che stava Mormorando qualcosa E che la stanza Gli rispondeva Mormorando a sua volta Come se quella Tremenda carta Da parati liscia Scelasse una miriade Di bocche Ormai la sensazione Di nausea Era così intensa Che il suo stomaco Pareva ad ondolarsi In una maca viscosa Sentiva l'aria Che si addensava Gli si coagulava Attorno alle orecchie Quasi si fosse All'improvviso Trasformata in melassa Ma era rientrato in sé Abbastanza Per essere sicuro Di una cosa Doveva chiedere aiuto Finché era in tempo Non lo preoccupava più Il pensiero Di vedersi davanti Olin Che sogghignava Con la sua ossequiosità Da direttore D'albergo New Yorkese E commentava Glielo avevo detto Mike non credeva più Che Olin Avesse indotto Nella sua mente Quelle strane percezioni E quella paura terribile Con qualche prodotto chimico Era colpa della stanza Di quella stramaledetta stanza Voleva ghermire il telefono Vecchio stile Identico a quello Della camera da letto Per afferrare il ricevitore E invece vide il suo braccio Scendere verso il tavolo In una sorta di delirante Movimento a rallentatore Così simile al braccio Di un subacqueo Che quasi si aspettava Di vederseli salire le bolle D'aria tutto intorno Strinse le dita Attorno al ricevitore E lo sollevò L'altra mano Si immersa a sua volta Lenta come la prima E compose lo zero Quando Mike si appoggiò La cornetta all'orecchio Udì il ticchettio del disco Che tornava alla posizione Di partenza Era lo stesso rumore Della ruota della fortuna Vuol girare Oppure mi dà la soluzione? Si ricordi che se sbaglia Verrà gettato nella neve Sul ciglio dell'autostrada Del Connecticut E i lupi la sbraneranno Non sentì alcuno squillo Invece Una voce stridula Cominciò a parlare Nove Nove Sono nove Nove Dieci Dieci Abbiamo ucciso i tuoi amici Ora sono tutti morti Sei Sei Mike ascoltò con un orrore crescente Non quello che diceva la voce Ma la sua vacuità stridente Non era una voce meccanica Ma non era neanche umana Era la voce della stanza La presenza che trasudava Dalle pareti del pavimento La presenza che gli parlava al telefono Non aveva niente in comune Con gli eventi paranormali O gli spettri di cui aveva letto Lì dentro C'era qualcosa di alieno No Non c'è ancora Ma sta arrivando Ha fame E tu sei il suo pasto Le dita inerti Lasciarono cadere il ricevitore E Mike si voltò La cornetta oscillò Appesa al filo Così come il suo stomaco Oscillava dentro di lui Mike sentiva ancora Quella voce che strideva Dalla cavità nera del telefono Diciotto Diciotto Ora Quando suona la sirena Cercati un riparo Quattro Quattro Non si rese conto Di aver preso la sigaretta Da dietro l'orecchio E di essersela messa in bocca E neppure di aver cercato Nella tasca destra Della vistosa camicia huaiana La scatola di fiammiferi Con l'immagine del portiere gallonato Non si rese conto Nemmeno del fatto Che dopo nove anni Aveva ripreso a fumare Davanti a lui La stanza aveva cominciato A liquefarsi Si afflosciava Trasformando le linee E gli angoli retti Non in curve Ma in bizzarri archi moreschi Che gli ferivano gli occhi Il lampadario di cristallo Al centro del soffitto Cominciò ad addensarsi Come un'enorma goccia di saliva I quadri si piegarono Assumendo la forma Dei parabrezza Di certe vecchi automobili Da dietro il vetro Del dipinto vicino alla porta Che conduceva la stanza da letto La donna Con i capezzoli sanguinanti E i denti scoperti In un ghigno cannibalesco Si voltò E risalì di corsa le scale Procedendo con il delirante movimento A scatti di una donna fatale In un film muto Il telefono continuava A macinare e a sputare parole Ora la voce Che si sentiva al ricevitore Era diventata quella Di un rasoio elettrico Che aveva imparato a parlare Cinque Cinque Ignora la sirena Anche se uscirai Non potrai mai lasciare Questa stanza Otto Otto La porta che conduceva In camera da letto E quella che dava sul corridoio Avevano cominciato a cedere Allargandosi al centro E trasformandosi in varchi adatti A essere dotati di forme indicibili La luce diventava sempre più calda E accecante Colmando la stanza Di quel bagliore giallo-arancio Ora vedeva squarci Nella carta da parati Pori neri che si dilatavano Fino a diventare bocche Il pavimento sprofondò In un arco concavo E poi lo sentì arrivare L'abitante della stanza Dietro alla stanza La cosa nelle pareti Il padrone della voce stridente Sei Urlò la voce al telefono Sei 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 del cazzo Guardò la scatola di fiammiferi Che aveva in mano Quella che aveva raccolto Dal portacenere Il vecchio e pittoresco portiere Le vecchie e pittoresche automobili Con le mascherine cromate E la scritta sul fondo della scatola Che non si vedeva più da molto tempo Perché ora la striscia abrasiva Era sempre sul retro Chiudere la confezione Prima di accendere Senza pensarci Non era più in grado di farlo Mike Hensley riprese un fiammifero Lasciandosi intanto cadere La sigaretta di bocca Poi lo accese E subito lo avvicinò agli altri All'interno della scatola Ci fu uno zaff Un forte odore di zolfo Gli andò alla testa Come l'odore di sali aromatici E dalle capocchie incendiate Provenne un bagliore intenso E sempre senza l'ombra di un pensiero Mike si appoggiò la scatola In fiamme alla camicia Era fatta di un tessuto da due soldi Prodotto in Corea O in Cambogia Oppure nel Borneo Ed era ormai consunta Prese fuoco in un istante Prima che le fiamme Li divampassero davanti agli occhi Rendendo la stanza di nuovo Mutevole ai suoi occhi Mike la vide chiaramente Come un uomo Che risvegliandosi da un incubo Si rende conto Che il vero incubo È tutto intorno a lui Aveva la mente lucida Per la zaffata di Zolfo E l'improvvisa vampata Di calore proveniente Della camicia Ma la camera Conservava Quell'assurdo aspetto moresco Moresco non era L'aggettivo giusto Non si avvicinava Neanche lontanamente Alle immagini che vedeva Ma era l'unica parola Che potesse in qualche modo Adattarsi a quello Che era avvenuto Che stava ancora avvenendo Era in un antro Che si stava fondendo Davanti a lui Disfacendosi In rientranze Curve impossibili La porta che conduceva Alla stanza da letto Era diventata L'ingresso Di una occulta Camera sepolcrale Sulla sinistra Al posto del quadro Con i frutti La parete Si era gonfiata Verso di lui Spaccandosi In lunghe crepe Che si spalancavano Come bocche Aprendosi verso un mondo Da cui stava scaturendo Qualcosa Mike Hensley Ne sentiva l'ansito Avido e schiumoso L'odore vivo e feroce Sembrava quello Della tana di un leone Nella Poi le fiamme Gli bruciarono la pelle Sotto il mento Sopprimendo ogni pensiero Il calore che saliva Dalla camicia in fiamme Lo rigettò nel mondo reale E quando iniziò a sentire L'odore acre Dei peli sul petto Che cominciavano a sfrigolare Mike fuggì Correndo sul tappeto Infossato verso la porta Che conduceva al cordidoio Dalle pareti Aveva iniziato a trapelare Un ronzio di insetti La luce giallo-arancio Si faceva sempre più intensa Come se una mano Stesse manovrando Un invisibile Neoreo stato Ma questa volta Quando arrivò alla porta E ruotò la maniglia La porta si aprì Come se la cosa Dietro la parete rigonfia Non sapesse che farsene Di un uomo in fiamme Forse non gradiva Il sapore della carne arrostita Fine E questo Era 1408 Di Stephen King Tratto da Tutto è fatidico 14 storie nere Fatemi sapere Poi in privato Se Cosa avete Pensato Di questo racconto Se conoscevate La storia Se avevate visto Il film Spero Siete riusciti Poi tutti A sentirlo Completo Un racconto Molto classico Di King Un racconto Totalmente King Nello stile Della scrittura Assolutamente E quindi niente ragazzi Sono contento Di essere riuscito A leggervi Almeno questo racconto Di King Poi ne leggeremo Altri ovviamente Aspetto i vostri commenti Prossimamente Magari in privato E intanto Vi voglio salutare Con Quattro brevi frasi Che ho scoperto oggi Su un blog Sono raccolte Sono scritte Da varie persone Non so da chi Non sono riuscito A capire da chi Per farvi Per darvi un'idea Di 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 Cosa sono Le storie Più spaventose Scritte In una sola Frase O due Ok Sono esercizi Che Che vi volevo leggere Per lasciarvi Con queste Con questa Con questa cosa E farvi Un attimo Venire Un po' Di ispirazione Magari farvi Venire voglia Di provare A far queste cose È molto interessante Queste sono le storie Spaventose Degli esempi Di storie spaventose Scritte in una sola frase Ok Vi faccio il primo esempio È questo qua Vediamo se ci riusciamo Il primo esempio è Non riesco a dormire Mi sussurro all'orecchio Infilandosi nel mio letto Mi svegliai Infreddolito Stringendo il vestito Con cui era stata sepolta Questo è il primo esempio Che vi volevo leggere Un altro esempio Molto carino È questo qua Mi chiese Perché stessi respirando Così affannosamente Non ero io Questa è molto più corta Di queste altre Queste sono letteralmente Cinque parole È una storia di paura Di cinque parole Tu ti svegli Lei no E infine La più bella in assoluto Secondo me Questa secondo me È veramente un capolavoro È una frase Che meriterebbe dei premi A mio parere Almeno per quello Che mi lascia Questa è la storia Più spaventosa Che abbia letto In una riga Vi lascio con questa E vediamo Se vi sconvolge La mente come a me L'ultimo uomo Sulla terra Sedeva solo In una stanza Qualcuno bussò alla porta Bene Queste sono le quattro storie Come esempio Che volevo leggervi Di paura Scritte con una sola frase Spero siate riusciti A sentire almeno queste L'ultima è un capolavoro Shanti Sono d'accordo Anche secondo me Perché ti apre Una miriade Di possibilità E allo stesso tempo È una delle cose Più inquietanti del mondo Immedesimarsi In una situazione del genere Penso sia veramente Uno degli esempi Più spaventosi Inquietanti Che si possano Immaginare L'ultimo uomo Interessanti Che vorrei tu sentissi E poi mi fai sapere Va bene Senza ipocondria Oreve L'ultima frase Sì Aiuto Comunque Ire Ire Ok Sì sì Senza ipocondria Per niente Va bene ragazzi Allora facciamo così Che intanto oggi Vi ho lasciato Con queste quattro cose Che secondo me Sono Comunque Qualcosa di nuovo Di curioso Interessante Che magari Non avete mai A cui non avete mai pensato Neanch'io Finché non l'ho Non l'ho letto Per caso Ecco La cosa più bella È vedere voi tutti Che vi ricollegate Ogni volta Mi date veramente Una grande soddisfazione Mi date Un po' di sollievo Prendiamola a sorridere Ci salutiamo Velocemente Così non Non rischiamo altro Ci diamo appuntamento Domani alle 5 e mezza Ok Oggi prova Instagram Zen Zen Veramente Shanti Io con lo Zen Non ho buoni rapporti Purtroppo sono E adesso Prima di mettere giù Vi copio appunto Questo link Di cui vi parlavo Vi faccio questo regalo Così avete qualcosa Da leggervi Velocemente Non velocemente Da curiosarvi Tra di voi Da soli Senza la mia voce Che vi racconta un racconto Per oggi E basta Vi mando questo link Che ho scoperto oggi Molto interessante E divertente È un blog Che ha raccolto Le 14 pagine Più spaventose Di Wikipedia Vi sto scrivendo il link Andatevelo a vedere A leggere Perché sombramente Wikipedia Come sappiamo tutti È una enciclopedia Online Su cui tutti possono scrivere Aggiungere i propri I propri paragrafi E quindi Non ha nessuna Affidabilità A livello Di vericità E vericità Proprio per questo È divertente Andare su Wikipedia Ogni tanto A scoprire cose incredibili Ci sono anche robe Appunto Quelle che vedete Sono alcune Tra i misteri Più incredibili del mondo E più spaventosi Vi lascio con questo regalo Andate a vedere Le 14 pagine Più spaventose Di Wikipedia Se non riuscite A copiare il link Basta che scrivete Su Su Google Quello E siete a posto Lo trovate Così poi domani Mi fate sapere Va bene ragazzi A domani Buona serata Un bacione enorme Cinque e mezza Puntuali Mi raccomando Domani Ma sì Maurizio Basta che cerchi Su Google 14 pagine Più spaventose Di Wikipedia È il primo link Che ti compare Nel caso Non lo trovi Iscrivimi Che ti mando il link Ciao ragazzi Grazie ancora Per la pazienza E per l'amore Ricambio A domani